240 musicisti protagonisti di 124 concetti in 33 siti diversi è un cartellone ricco e variegato quello che le rassegne piano siti napoli 2022 welcome to napoli e villa di donato proporranno a partire dal 13 ottobre promosso e finanziato dal comune di napoli nell'ambito del progetto napoli città della musica il calendario di eventi dare il via ad una programmazione invernale che proseguirà nei mesi di novembre e dicembre trovando il suo culmine nel capodanno a napoli 2023 città della musica ricordiamolo è un progetto pluriennale non è soltanto un cartellone di eventi però questi eventi che oggi presentiamo sono assolutamente coerenti con quelle che sono le linee guida città della musica abbiamo la contaminazione abbiamo l'internazionalizzazione abbiamo una città policentrica quindi non un unico centro ma attenzione alle tante anime di napoli sia le anime musicali sia professionali sia proprio dei luoghi le rassegne si svilupperanno dal centro della città alla periferia toccando siti come l'antico refettorio di santa maria in gerusalemme o piazza mercato e spazi che per la prima volta ospiteranno eventi musicali come il molo san vincenzo o il liceo musicale melissa bassi di scampia particolarmente significativa la scelta di aprire il ciclo di programmazione con il concerto quattro pianoforti in galleria in programma il 13 ottobre nella galleria umberto primo